salve oggi sono qui per presentarvi delle interessanti soluzioni familiari bilocali o trilocali da ristrutturare o ristrutturate economicamente ripeto interessanti proviamo a vedere qualcosa alloggi come potete vedere dal prezzo interessante adatti soprattutto coloro che intendono comprare un'abitazione avvalendosi di un piccolo mutuo nel ricordarvi di continuare a seguirmi sul mio sito www.immobiliariodorteni.it e sulla mia pagina di facebook vi aspetto la prossima settimana con tante tante novità ciao a tutti